Dipendenti aria vasta 1, i sindacati denunciano il mancato pagamento del prezzo Covid. Quartiere Muraglia, l'assessore Enzo Belloni risponde ai residenti di via Pignati. Ripartono i campionati, ma a porte chiuse. Non solo i tifosi chiedono spiegazioni. Arriva domenica il convegno benessere in menopausa con esperti e professionisti del settore. Grazie a tutti. Questa sera partiamo andando subito a Fano perché ieri si è tenuta una conferenza a stampa indetta dai rappresentanti sindacali delle sigle CGL, CISL e UIL per denunciare il mancato pagamento del premio Covid ai dipendenti di aria vasta 1. Certezze sono state chieste anche sul fronte sicurezza in vista di una nuova possibile stagione piena di incognite dal punto di vista della pandemia. Questo primo servizio è di Simone Celli. Il famoso premio Covid non ancora conferito e infine la mancanza di sicurezza a causa di un virus non ancora sconfitto. Per tutto questo e molto altro ancora, i difensori della salute sono ormai passati all'attacco. Siamo qua nuovamente a manifestare il nostro dissenso, la nostra contrarietà per il mancato pagamento del cosiddetto premio Covid che svilisce oltremodo la professionalità dei nostri dipendenti che a differenza dei colleghi dell'azienda ospedaliera Marche Nord e di altre province e regioni in Italia non ha avuto la corrispensione appunto del premio Covid promesso dalla precedente giunta regionale. Noi questo ritiriamo che sia oltremodo oltraggioso verso la disponibilità e la professionalità dimostrata. Oggi non ci sono i soldi per pagare questo premio. Non si può considerare un premio il pagamento delle indennità e dello straordinario perché questo semplicemente non è un premio. Ad oggi Asur Marche e Area Vasta 1 non hanno soldi per pagare il cosiddetto premio Covid. Questo è inaccettabile perché mortifica nell'anima la professionalità dei nostri dipendenti. Nell'ambito della regione Marche il 40% degli infortuni sul lavoro per Covid sono stati denunciati nell'ambito della nostra provincia. Nonostante questo e quindi la capacità di affrontare quell'emergenza ad oggi non hanno avuto un riconoscimento economico che è stato soltanto annunciato sui giornali ma mai è stato corrisposto. Rispetto a questo volevamo anche dire che siccome è uscito un comunicato della Area Vasta 1 che dice che non è stato corrisposto a causa del mancato accordo delle parti sindacali noi siamo disponibili fin dall'inizio dell'estate a sottoscrivere l'accordo ma purtroppo la mancanza di risposte sia da parte dell'Aso che dall'Area Vasta 1 hanno impedito di fatto di poter redigere un protocollo che consenta la liquidazione dei compensi. Quindi siamo ben contenti se ci vorranno chiamare per confrontarci sul contenuto anche perché a distanza di 6-7 mesi non è giusto che non abbiano ancora avuto un riconoscimento che peraltro sarà economicamente molto simbolico, poco più che simbolico. Pretendiamo che almeno quello venga riconosciuto prima dell'autunno perché appunto si rischia di dover affrontare una nuova emergenza con operatori che sono stanchi anche del mancato riconoscimento del lavoro che hanno svolto. Parliamo delle progressioni economiche del 2018-2019 che vanno a mancare all'interno di questa Area Vasta 1 parliamo della produttività 2018-2019 che comunque ancora non è stata erogata quindi abbiamo troppe differenziazioni all'interno di questi enti già la differenziazione fra Marche Nord e l'Area Vasta 1 in quanto un ente a pochi chilometri di distanza già erogato dalla primarità Covid produttività e progressioni orizzontali quindi fasce economiche per i dipendenti e invece troviamo l'Area Vasta 1 che a tutt'oggi è ancora inadempiente quindi io credo che questa amministrazione abbia fatto dei grossi flop all'interno di questo periodo addirittura sarebbe opportuno forse che questa direzione si dimettesse da questo incarico. Noi abbiamo dato il 150% per fronteggiare l'emergenza e per portare avanti la salute dei nostri cittadini invece da parte loro abbiamo visto solamente abbandono e non il riconoscimento dei nostri sforzi sia a livello economico sia a livello organizzativo e di sicurezza. Noi chiediamo che ci venga dato quello che ci spetta il nostro riconoscimento sia economico per lo sforzo che abbiamo fatto per le promesse che ci avevano fatto ma soprattutto noi chiediamo sicurezza per il futuro e per un eventuale ritorno della pandemia. Se non saremo ascoltati abbiamo intenzione di andare avanti nei nostri passi consultando il perfetto e cercando di portare i lavoratori a protestare insieme a noi. E da Fano ci spostiamo a Gabice Monte perché questa mattina intorno alle 12 c'è stato un incidente per un biker classe 1976 che è stato trasportato in ospedale dopo un importante impatto a terra. Il 44enne in sella alla sua bicicletta stava scendendo lungo il sentiero che parte dal parcheggio situato dietro la chiesa di Gabice Monte quando ad un tratto è scivolato e nella caduta ha battuto violentemente la schiena a terra. L'uomo che ha riportato diverse ferite, forti dolori alla schiena ma è sempre rimasto cosciente è stato soccorso prima dai vigili del fuoco che lo hanno messo in sicurezza attraverso l'utilizzo di alcune corde e una barella e successivamente dai sanitari del 118. Ed ora il momento dedicato agli aggiornamenti Covid-19 con il bollettino quotidiano del Gores che oggi segnala l'analisi di 1540 tamponi, 859 nel percorso nuove diagnosi e 681 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove diagnosi ma nessuno di questi proviene dalla provincia di Pesarurbino che per il secondo giorno registra quindi zero nuovi casi. Nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Marche Nord si registra soltanto un ricovero a differenza dei tre erroneamente comunicati nel bollettino di ieri mentre nel reparto di malattie infettive si trovano tre pazienti. E come sempre abbiamo lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni e come sempre dopo le vostre segnalazioni noi contattiamo le persone di riferimento per dare alcune spiegazioni o risposte e quindi torniamo ad occuparci della segnalazione che vi abbiamo proprio presentato la scorsa settimana relativa al quartiere di Muraglia e via Tumiati. Abbiamo presentato le problematiche esposte dai residenti della strada spesso trafficata da automobilisti irresponsabili all'assessore Enzo Belloni che ha aperto la possibilità di modificare la circolazione. Vediamo. La scorsa settimana abbiamo raccolto un'importante segnalazione dai residenti del quartiere Muraglia relativa ad un problema di viabilità ormai noto e conosciuto da tempo. Stiamo parlando dell'incrocio posto nel tratto finale di via Fratti, all'altezza del primo semaforo dove la svolta sinistra consente l'accesso su via Tumiati. Sono anni che i tanti residenti della strada in cui la velocità massima consentita è di 30 km orari lamentano il passaggio di veicoli ad alta velocità non rispettosi delle indicazioni semaforiche. Attendere il verde è diventato un optional per tanti e troppi conducenti, i quali, per recarsi in direzione Loreto, decidono di bypassare l'attesa dei due semafori che consentono l'accesso su via Flaminia. Pochi controlli da parte dei vigili per sanzionare le manovre pericolose degli automobilisti, ma anche dei ciclisti che, non curanti dei pericoli, percorrono la parallela di via Flaminia contro mano. Nel corso del tempo si sono quindi moltiplicate le lamentere dei tanti cittadini stanchi di questa situazione. Dagli stessi residenti arriva la proposta di cambiare il senso di marcia soltanto nel primo tratto di via Tumiati, il che obbligherebbe vetture e altri mezzi a proseguire dritti dopo il semaforo e imboccare quindi via Flaminia. Una proposta che abbiamo sottoposto all'assessore all'operatività Enzo Belloni, il quale ha dato disponibilità ad avviare una sperimentazione che incontri il consenso dei residenti, sottoponendo però la questione all'attenzione dei rappresentanti e del presidente di quartiere. Io direi di coinvolgere il quartiere in una decisione perché quando si prendono posizioni e si fanno cambiamenti sulla viabilità, sui sensi di marcia, sui sensi unici in qualche modo si accontenta qualcuno e altri no. Ovviamente consiglio a Patrone che conosco anche bene che ha fatto l'intervista di interfacciarsi con il presidente di quartiere e poi insieme magari ci vediamo con il nostro mobility manager Thomas Flenghi e prendiamo una decisione, facciamo una valutazione. Solitamente cambiare un senso di marcia dal punto di vista tecnico non è complesso, bisogna capire, vedere se attraverso queste modifiche della viabilità si vanno a congestionare altre zone del quartiere. Oggettivamente quella è una zona 30 dove le macchine dovrebbero andare ai 30, la strada è stretta, ci sono le auto parcheggiate, quando uno deve andare al lavoro, tornare a casa o fare i propri comodi, cerca sempre di scantonare, qualche furbo c'è sempre, se dobbiamo adottare delle strategie per rendere la viabilità più sicura noi siamo a completa disposizione. Esclusa invece l'ipotesi di poter installare telecamere e sistemi di controllo per sanzionare i conducenti irrispettosi delle regole. Io penso che la cosa più importante sia educare i più giovani su questo punto di vista, poi tutti gli accorgimenti tecnici siamo disposti a prendere, ma le telecamere dappertutto sarebbe difficile installarle, difficile gestione, difficile acquistarle, insomma ci sono priorità e andiamo a risolvere i problemi dal più grande al più piccolo. Una volta contattato il Presidente del Consiglio di quartiere che tempistiche può avere una modifica alla circolazione di questo tipo? Ma io direi che una volta che l'abbiamo decisa si fa la delibera, si parla con la polizia locale qualche settimana e insomma il lavoro si sistema, poi si tratta di segnaletica verticale e segnaletica a terra, è chiaro che se piove 20 giorni non si può fare la segnaletica a terra, quindi i tempi non sono biblici. Ed ora cambiamo completamente pagina ma parliamo di un argomento che tiene banco dallo scorso fine settimana, ovvero la ripresa dei campionati sportivi marchigiani ma soprattutto pesaresi a porte chiuse. Non solo i tifosi sono scontenti di questa situazione ma anche i comparti dirigenziali delle varie società e la politica che chiede al Governo nazionale di trovare una direttiva e linee guida comuni per tutte le regioni. Vediamo queste interviste effettuate da Marco Cadeddu. Lo sport pesarese è tornato in campo in questo ultimo fine settimana di settembre. A mancare però è stato il pubblico. L'assenza dei tifosi ai primi match in programma in tutta la regione ha fatto molto discutere in queste giornate, soprattutto vista la situazione nella confinante Emilia Romagna, dove il Governatore Stefano Bonaccini ha consentito l'accesso agli stadi fino a massimo di mille persone. Sull'impossibilità per i tifosi marchigiani e pesaresi di assistere dal vivo alla ripresa degli appuntamenti sportivi è intervenuto anche il Presidente del Consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori, il quale ha inoltre sottolineato l'impatto economico per la società derivato dal mancato ingresso degli introiti derivati da biglietti e abbonamenti. Una situazione che preoccupa anche il responsabile dei rapporti con i tifosi per la Carpegna Prosciutto Basket, Alessandro Mengucci. Sicuramente tutta questa incertezza che c'è al momento su un discorso sportivo, sulla riapertura degli impianti sta creando dei problemi molto gravi che più passa il tempo e più chiaramente si acuiscono. Cosa diciamo ai nostri tifosi che in questi giorni hanno inondato i social di proteste, critiche nei confronti dell'atteggiamento anche politico, se me lo permetti? Ma diciamo che è chiaro che le decisioni spettano sicuramente a livello di chi comanda, di chi governa e quindi soprattutto sarebbe opportuno a questo punto dare comunque delle regole certe e uniformi perché si stanno creando delle disparità a livello di regioni, a livello di zone che a questo punto vanno a falsare anche lo stesso discorso sportivo. Quindi direi che ci auguriamo che nelle prossime ore e più che nei prossimi giorni arrivi qualcosa di importante e di definitivo che dia delle regole certe, chiare e soprattutto uniformi su tutto il territorio nazionale. Il mio appello è stata basta questa confusione, quindi chi deve decidere ora che prenda una decisione non ci può essere diversità per impianti sportivi e per regioni e quindi ci deve essere sicuramente uniformità perché lo sport soprattutto a livello professionistico si regge anche grazie al pubblico. In questo caso se si parla di aspetti sanitari sicuramente la politica si avvale dei tecnici e quindi diciamo la politica supporta, sostiene quello che sicuramente l'emergenza sanitaria è la priorità. Però visto che l'emergenza sanitaria è su tutto il territorio nazionale ci deve essere uniformità anche nelle decisioni. Quindi il mio appello era a chi deve decidere deve decidere in fretta perché non ci può rimettere lo sport. È stata presentata ieri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la moneta coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il 500esimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Chigi e tra gli altri ha visto la partecipazione di Gianluca Carrabs, amministratore unico di Svim. Per l'occasione il Premier ha affermato che tra qualche mese sarà nuovamente nelle Marche per fare un sopralluogo delle aree terremotate e anche per visitare la città di Urbino. È stato presentato questa mattina in una conferenza stampa presso la sede della Confcommercio di Pesaro un evento dal titolo Benessere in menopausa. Un convegno esattamente in programma per domenica 4 ottobre a cui parteciperanno esperti e professionisti del settore e che è stato pensato dalla Presidente del gruppo Salute, Bellezza e Benessere di Confcommercio Stella Scarpa, con il supporto di Terziario Donna Confcommercio e con il gruppo 50 e più. Noi di Rossini TV seguiremo questo evento e vi mostreremo poi la prossima settimana il racconto di questa giornata, ma nel frattempo vediamo le interviste. Benessere in menopausa sarà un'occasione per coniugare professionisti del settore del benessere con professionisti della salute, quindi medici e in particolar modo anche le farmacie. Quindi noi vediamo benessere in menopausa come un nuovo approccio integrato nei confronti del benessere della donna in menopausa che ha un grande cambiamento, un cambiamento dal punto di vista metabolico, un cambiamento dal punto di vista ormonale, un cambiamento dal punto di vista sessuale, psichico ma anche estetico. Quella che noi vogliamo è una donna che prevenga i disturbi comuni della menopausa già durante il periodo della pre-menopausa, quindi soltanto attraverso la cooperazione di più professionisti insieme possiamo veramente riuscire attraverso l'informazione ad avere una donna in bella salute durante la menopausa. Questo evento è soltanto aperto a professioni sanitarie, quindi medici e farmacisti. sarebbe molto piacevole avere presenti con noi anche psicologi e nutrizionisti, in quanto poi a livello locale possiamo anche agire in cooperazione. Allungandosi la vita ci è sembrato giusto sostenere Stella Scarpa in questo progetto perché la vita delle donne deve essere migliore, un terzo della vita è dalla menopausa in poi e appunto se non si sta bene in salute e se non si è felici perché la menopausa tocca anche la psiche, l'umore, insomma tante cose, non solo il fisico. Ecco se non si è felici e non si sta bene si lavora male e si è di pessimo umore e quindi ne risente tutto, anche l'economia, permettetemi questo passaggio. E quindi ecco noi vogliamo sostenere questa prevenzione, siamo sicuri che Stella ci riuscirà perché lei è molto preparata e determinata, in più ha uno staff di medici, di nutrizionisti, non è sola e ha tutto il sostegno della ConfCommercio e non solo appunto di terziere o donne di 50 e più. Siccome 50 e più fa parte di ConfCommercio ed è la parte di ConfCommercio che si occupa delle persone alla fine della propria attività professionale e lavorativa, ha particolarmente a cuore il benessere di queste persone, cioè mentre ConfCommercio cura attraverso i suoi servizi il benessere e le necessità delle aziende, noi ci prendiamo cura più del benessere della persona una volta che a questa ha terminato la propria attività lavorativa. In questo senso partecipiamo a questa iniziativa ben volentieri perché appunto 50 e più ha tra i suoi iscritti tantissime donne e quindi queste problematiche, queste donne o le stanno vivendo o le hanno superate in termini di età. Ma certo comunque è nostro interesse che queste problematiche vengano sviscerate, che ci sia una diffusione delle soluzioni e degli approcci migliori perché nel nostro mondo il benessere delle donne è molto importante. E sempre in questo fine settimana arriva un'altra bella manifestazione, andiamo ad Apecchio perché sabato 3 e domenica 4 ottobre torna una nuova edizione di Apecchio, tartufo e birra, festival dell'allogastronomia. Ce ne parla nella prossima intervista il consigliere con delega al turismo Massimo Cardellini. Quest'anno abbiamo deciso come amministrazione comunale di comunque fare l'evento nonostante purtroppo le restrizioni covid che ci sono. Abbiamo scelto di fare un format diverso, quindi molto più culturale. Purtroppo non ci saranno le osterie nel centro storico del paese che sono quelle che hanno dato sempre l'infa a questo tipo di evento. Ma abbiamo comunque pensato di portare avanti questo brand tartufo e birra tutto l'anno con i ristoratori. Quindi questo format che noi andremo a lanciare questo weekend sarà ripetibile, dovrà essere ripetibile per tutti i due mesi della stagione di tartufo, quindi fino alla fine di novembre. Questo per garantire e comunque anche per sostenere l'economia locale, quindi cosa molto importante, e per far conoscere il nostro territorio. Ovviamente grazie al brand tartufo e birra il turista, il visitatore conoscerà appunto tutto il resto del territorio. Inizieremo con un talk show molto importante legato alle alte marche. Venerdì scorso abbiamo presentato, no sabato mattina abbiamo presentato a Sera Santa Bondi il nostro nuovo brand, il nuovo brand che raccoglie i nuovi comuni, i comuni delle alte marche, quelli che fanno parte appunto della strategia nazionale dell'area interna. e abbiamo appunto fatto, faremo questo talk show, tartufo e birra nelle alte marche, dove saranno presenti oltre il sindaco di Apecchio e Birifici anche il sindaco del comune di Acqualagna, che fa da un po' da padrino, da madrina di tutta la terra del tartufo. Acqualagna è il volano per l'intero territorio, quindi il resto dei paesi ovviamente si uniscono a lui e fanno conoscere il territorio. e oltre a questo talk show che un po' rappresenterà un po' tutto il brand di tartufo e birra, ci sarà anche in quello stesso giorno un tour press organizzato da Tipicità Experience, un tour press di giornalisti di alto livello che visiteranno appunto tutto il territorio, tutte le aree interne. ecco, dobbiamo usare, questo è diciamo l'obiettivo di quest'anno, usare quest'anno il male, per diciamo cerchiamo di sfruttare tra virgolette il Covid per prepararci a un buon 2021, quindi usare quest'anno come anno di promozione. Questo è il nostro obiettivo principale, ovviamente in questo weekend siamo consapevoli che la gente non sarà come tutti gli altri anni, però appunto cercheremo di spalmare, di spalmare insieme alle nostre attività ricettive, ai nostri ristoratori, di spalmare questo brand per portare gente in apecchio. E' in chiusura il consueto appuntamento con lo sport perché come ogni precampionato, Little Service Calcio a 5 Pesaro è felice di annunciare il ritorno del Memorial Nino Pizza, giunto quest'anno alla 14esima edizione, un match che dà il via alla nuova stagione, ma soprattutto ravviva il ricordo del papà del presidente dell'Ital Service Lorenzo Pizza. Si scenderà in campo sabato 3 ottobre alle ore 16.30 al Palanino Pizza e l'avversaria di quest'anno sarà l'Olympus Roma, squadra che milita nel girone B di serie A2. Il Memorial quest'anno sarà a porte chiuse, la gara verrà però trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell'Ital Service Pesaro e soprattutto la potrete trovare in diretta su Rossini TV così da consentire a tutti i tifosi biancorossi di tifare e tornare ad ammirare la squadra. E allora in bocca al lupo alla nostra squadra pesarese Ital Service, non perdetevi l'appuntamento con il Memorial Nino Pizza, intanto vi ricordo che questa sera alle 21.15 vi faremo rivedere questa gara canora bellissima che abbiamo registrato negli studi di Rossini TV Stella da Capogiro in collaborazione con Maria Bianca Caranna. E io vi ricordo sempre l'appuntamento con l'informazione, torna domani mattina con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 e poi in replica alle 8.30 e 9.30. Vi auguro buon proseguimento di serata.